La curva dei contagi inizia a flettere verso il basso in provincia di Salerno. Su 3.769 tamponi analizzati, 208 sono risultati positivi. Nonostante il lieve incremento rispetto al precedente dato, si conferma l'andamento incoraggiante degli ultimi giorni, un miglioramento che coincide anche con l'accelerata data alla campagna vaccinale. Nelle ultime 48 ore l'Asla ha somministrato oltre 12.000 vaccini al giorno, superando quota 350.000. Entro domani saranno somministrate le ultime scorte delle 40.000 dosi di Pfizer arrivate a metà settimana. La campagna dunque sta proseguendo in tutta la provincia, grazie ai 120 hub vaccinali attivi. Ritendo che le direttive nazionali possano finalmente con i vaccini, con la presenza di un grande numero di vaccini, poter aprire a tutta la popolazione. La Guardia delle Forze dell'Ordine tuttavia resta alta nell'ultima settimana. Sono stati controllati 4.979 veicoli e 7.863 persone, 103 delle quali sono state sanzionate perché trovate senza mascherina o per aver violato il coprifuoco, ma con il passaggio in zona gialla. È stato intensificato anche il monitoraggio negli esercizi pubblici. Su 1.421 locali controllati, 8 sono stati multati, in particolare solo sabato a Salerno. Sono stati beccati 4 ristoratori che consentivano la presenza di un numero eccessivo di clienti per tavolo e 9 cittadini che hanno violato il coprifuoco.